Mentre nel 2016 c'è stato un totale di accessi nella provincia per codice rosa 174, nei questi nove mesi di quell'anno sono 125 e ho messo a confronto con quelli di quest'anno dei primi nove mesi e si vede che ce ne sono ben 20 in più. Sono in aumento i casi dei maltrattamenti su donne o minori in provincia di Arezzo, ce lo raccontano i numeri del codice rosa, attivo ormai da cinque anni nei pronto soccorso della provincia. Rispetto ai 125 casi del 2016, nei primi nove mesi del 2017 siamo già a 145. In aumento anche ai minori, probabili vittime di violenza, dagli 11 casi del 2016 si passa ai 14 del 2017. Il sommerso è ancora molto, si stimano percentuali vicini addirittura al 100% quando si parla ad esempio delle spose bambine. E queste sono ragazze che vivono un dramma e una disperazione infinita perché sono ragazze a tutti a tondo nostre direi quasi italiane come culturalizzazione che vengono violentate verso un ritorno a quelle che sono le regole loro, culturali del loro paese e laddove cercano di opporsi la violenza e anche, l'abbiamo visto anche in Italia, fatti di cronaca, possono essere addirittura uccise dai propri genitori che non riconoscono davvero più, questo noi abbiamo toccato con mano in alcuni casi, in cui i genitori finché sta alle regole la figlia e la loro figlia dopo se si supera quella soglia non sono più riconosciute come figlie, quindi addirittura c'è il passaggio alle violenze maggiore, anche all'uccisione. E questi casi qui abbiamo la percezione, sono molto nascosti, in quel famoso 90%, qui direi si rasenta quasi il 100%, però raramente ogni tanto si ha avvertenza e sembra che aumentino perché ovviamente se sono cinque anni che si parla di codice rosa sono altri cinque anni di scolarità di ragazzine, di bambini che sono nati o che sono venuti presto nelle nostre scuole. L'imperativo è denunciare ma dalla dottoressa Silvia Gatto, vice coordinatore territoriale del codice rosa per tutta la ASL sud-est e referente per l'area aretina, arriva un accorato appello. Il non riferito lo si intuisce solo se ci si mette un attimo fermi anche noi come medici, come infermieri ad ascoltare la persona e purtroppo i nostri ritmi sono un po' da catena di montaggio, questo mi spiace ma è il dato di fatto. Siamo troppo pochi come operatori nei confronti alle esigenze dei malati e quindi anche delle vittime. Denunciare, denunciare e però organizzarsi come rete a fornire appunto percorsi perché anche qui è una ragazza che magari si parla di giovani ragazze perché non si pensa che in questi paesi si sposino a vent'anni. Si iniziano già a pensare a matrimoni combinati a 15-16 anni in età minorile quindi immaginate che sono ragazze che se si tolgono dal loro contesto familiare devono finire la parte delle scuole, poi applicare e trovare un lavoro. Se si tolgono dal contesto familiare sono ragazze in cui i mezzi e gli strumenti che la società, che il nostro sistema e la nostra rete antiviolenza deve fornire sono mezzi economici, risorse che vanno trovate, vanno sicuramente trovate.